Ciao a tutti, sono Serena Marchi, ho 25 anni e vengo da Milano. Ho scelto di intraprendere il percorso di studi presso Digital Coach perché l'ho trovata su internet sotto il nome della migliore e prima scuola di digital marketing in Italia. Ed è così, effettivamente la loro formazione è davvero ottima. Ho conosciuto fin da subito Silvia perché mi ha contattato lei e lei è stata proprio la chiave più importante durante il mio percorso perché è davvero una brava professionista, un'ottima tutor e career coach. Lei è quella persona che io contatto quando ho qualche problemino, quando voglio un consiglio ed è stata la chiave svoltante per il mio percorso perché comunque è stata la persona che mi ha aiutato a iscrivermi a questa scuola. Ero un po' in dubbio all'inizio perché io venivo dalla grafica editoriale quindi comunque non sapevo nulla dell'ambito digital e grazie a lei sono riuscita a prendere la forza, chiamiamola così, il coraggio di iscrivermi a questa scuola. E quindi adesso ho sicuramente tante capacità nell'ambito digital che prima non avevo. Durante questo percorso di studi io sono iscritta alla Hall Specialist Certification ti insegnano un sacco di tool e di software molto importanti poi per il mondo lavorativo. Quindi forza e coraggio e spero che vi iscriverete anche voi. Mua! 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 Mua!